Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4 serie Single Father Challenge! Grazie a tutti e benvenuti in questo video! E mi scuso già da adesso se ho lasciato la sigla natalizia, non sono sicura di averla cambiata perché questi giorni dopo l'epifania sono ancora molto frenetici e mi serve un'oretta di tempo per preparare la nuova, quindi se non sono riuscita scusatemi! Poi ci tengo tantissimo a ringraziare le persone che mi hanno seguita su Instagram perché in questi giorni di pausa ho preso le vacanze per andare fuori a Capodanno. Sono stata a Monaco di Baviera, nel gergo simmico, nella mia Windenburg e come ho fatto compagnia a voi, anche voi ne avete fatta tanto a me e mi ha fatto tantissimo piacere. Per chi se le è perse, comunque si sta iscrivendo adesso ad Instagram, mi ha scoperto adesso, ho lasciato le stories in evidenza con la scritta Capodanno 2018. Giusto per i curiosini come me. E poi ci tengo tantissimo a ringraziare invece coloro che sono rimasti sul canale a rivedere serie vecchie, puntate scorse e anche nuovi perché nonostante la mia pausa vi siete iscritti quindi benvenuti nel mio canale. E' stranissimo riaccendere il computer, il gioco, dopo più di 10 giorni che non lo tocco, infatti il mouse va una scheggia. Scusate qualche gaff se magari clicco male, ma devo appunto riprendere tutto il ritmo, tutta la mia routine, proprio strano, anche soltanto prendersi una pausa di una settimana. Davvero sembra poi tutto diverso, tutto nuovo. Comunque, dove ci eravamo lasciati con il Single Father Challenge? Nella puntata scorsa, che si intitola E' Primavera, Brianna era a scuola di mattina presto con il professore e gli altri ragazzi, i suoi compagni di scuola, di classe. Perché in pratica la scuola sta organizzando questa gita in un istituto botanico e il professore ha diviso i ragazzi in gruppi per poterli seguire e gestire meglio. E' il gruppo di Brianna di oggi, se non lo ricordate, poi ve lo mostro dopo. Comunque erano lì riuniti per le ultime cose e poi sarebbero partiti verso Willow Creek, perché è qui che ho posizionato i lotti scaricati dalla galleria. Infatti vi ricordo che se andate dalla mia galleria, Eli trattino sotto ricciolina, BD catalogo, i miei preferiti, qui trovate tutti tutti i lotti che io ormai scarico e che utilizzo. Perché giustamente non posso ricordarmi tutti, invece se voi venite qui a cercare sicuro li trovate. E per sicurezza includete sempre il contenuto personalizzato, perché come vedete alcuni sono nascosti da questo simbolino. Il Komarov Botanic Institute ha come tratti terreno ottimo, gnomi e luce naturale. Ed è qui che passeranno la mattinata fino a ora di pranzo, perché ci sono varie attività da vedere e il professore farà loro da guida. Nella seconda parte della giornata andranno in questa caffetteria, Community Garden Café, terreno ottimo, aspetto solare e internet veloce, per pranzare insieme, mangiare qualcosa e poi per mettere a punto tutto quello che hanno visto e studiato. E perché no anche metterlo per iscritto, perché comunque è una cosa che verrà come futuro compito in classe. Questo è tutto il grandissimo lotto che ci fa da Istituto Botanico, ragazzi, è un qualcosa di meraviglioso, infatti al volo vi faccio fare anche un tour. Tanto i ragazzi sono qui che stanno svolgendo l'ultima attività della giornata, perché comunque si è fatto mezzogiorno. Allora, come vedete, in questa parte fatta con tutte queste vetrate, ci sono le piante, quindi proprio la zona bivaio. E non solo le piante, aspettate vi faccio vedere così anche un po' dall'alto, perché altrimenti è difficile. Varie sedute, ci sono le postazioni floreali, i vari vasi, composizioni di vasi. Poi ci sono qui e là anche i tavoli per la manualità. E qui vediamo un Jake e Brianna che stanno costruendo qualcosa qui al tavolo e lei deve terminare anche un'ultima composizione floreale. Ok, come vedete poi c'è la porta finestra e si esce e anche da questo lato ci sono altri vasi per piantare. Questo poi è il giardino dove come decorazione c'è la nave qui dei bambini, però l'aria impicciolita per metterla qui nel laghetto ed è bellissimo. Varie sedute fatti di roccia, fontane, panchine, gli scacchi, altre panchine. Come vedete è tutto bellissimo immerso nel verde. Peccato che oggi, nonostante sia il secondo giorno di primavera, comunque fa freddo, porta neve con squarci di sole e come vedete cadono dei fiocchi di neve. Anche l'altra parte è uguale a quella che abbiamo visto e qui invece il professore è con Rudy e Mike che sempre gli sta facendo vedere come costruire, anche come preparare da soli dei vasi per le composizioni floreali oppure un ceppo per coltelli, varie statuine eccetera. Vedo che c'è un Oliver che è venuto qui, che non dovrebbe stare qui, evidentemente sta cercando Brianna perché chissà, forse le manca. Comunque, allora, il resto della struttura è fatta in questo modo. C'è questo ingresso con i computer, è molto stretto come vedete, infatti mi devo mettere dall'alto. Computer, bacheca, vari premi e una sorta di museo perché sia da questa parte che dall'altra ci sono delle composizioni di fiori, ma quelle che noi troviamo nelle statue, quindi nelle decorazioni, messe a mo' di museo con varie sedute per ammirarle. Quindi sia di qua che di qua, la stessa cosa cambiano i vasi di fiori, mentre dall'alto abbiamo questa stanza con le varie postazioni della manualità e che io, adesso che vedete le foto, ho messo le postazioni per le composizioni floreali, appunto per creare delle composizioni floreali, visto che questo è un corso di giardinaggio. Mentre da questa parte c'è una stanza di chimica laboratorio ed è bellissima. Mi è piaciuta tanto trovarla qui, mentre in queste casine sono praticamente vuote perché uno potrebbe allestirle a mo' di negozietto, souvenir e quant'altro, sia di qua che da questa parte. Allora, quale attività hanno svolto durante la giornata i ragazzi? Allora, appena arrivati ovviamente si sono trovati davanti questa struttura e l'hanno ammirata. Nel frattempo che il professore spiegava l'istituto da quando era qui a Willow Creek, di cosa si occupava, di cosa era famoso, le varie piante che poi sono piante comuni, non comuni e anche rare, sparse non solo nella serra ma anche nel giardino centrale. e quindi hanno fatto un giro per tutto l'istituto. Poi hanno iniziato, mettendosi come avete visto, a costruire delle composizioni in legno, mentre Brianna e Jack invece hanno piantato dei fiori, perché comunque il professore ha dato delle attività un po' a tutti e a rotazione hanno poi cambiato attività, quindi tipo Brianna che prima hanno piantato dei fiori, e come avete visto adesso sono alla manualità e così via. Insomma, loro erano qui a piantare dei fiori, a fettilizzarli e innaffiarli, dopodiché si sono spostati nella stanza di chimica ed è qui che il professore ha spiegato e ha mostrato anche con il telescopio, analizzando i vari fiori, quindi come sono composti chimicamente, insomma hanno fatto un bello studio approfondito ed è stata una lezione molto molto interessante, perché coloro a scuola non hanno un laboratorio chimico così organizzato, quindi comunque è stato bello vedere proprio il professore all'opera con i vari tipi di fiori. Poi si sono spostati nella stanza, come vi ho raccontato prima, delle composizioni floreali, ma le ho messi io e i banchetti, e qui il professore comunque la divisi in coppia, perché i banchetti non c'erano per tutti, e perché appunto voleva vedere in squadra come si comportavano. Rudy è capitata con il suo Mike, la povera Paige con il professore, infatti ha fatto un po' di gaffa e ha ricevuto anche delle sgridate dal professore, perché Paige, come Brianna, è una studentessa molto talentuosa, solo che forse l'ansia di avere il professore vicino l'ha fatta sbagliare e il professore non accettava errori, no? Mentre Brianna invece era con Jake. E devo aprirvi una parentesi, in pratica nel breve tempo che si sono conosciuti, sia come compagni di classe che anche durante gli scout, hanno avuto modo di parlare tantissimo. Come vi ricordate, Jake è figlio di Sullivan, che è la famiglia di Brindleton Bay, nata proprio con questo lavoro, loro sono fioristi e coltivano i fiori freschi, che poi danno ai vari ingrossi, che siano negozi o che siano privati. Quindi lei sa che lui è già molto bravo e pratico di composizioni florali, infatti era affascinata nel vedere con quanta facilità riusciva in poco tempo a prendere i fiori, creare delle combinazioni giuste, metterci dei profumi, scegliere il vaso, cioè era proprio pratico. Lei ancora fa degli errori, nonostante su carta, quindi su pagella, è brava. non ha ancora l'esperienza che ha Jake, perché alla fine, ragazzi, lui è nato in quell'ambiente, quindi è davvero bravissimo, così come nella manualità, cioè è proprio bravo nel lavorare in legno. E quindi è stata anche contenta di capitare con lui, perché è stato in quel momento che continuavano a chiacchierare, continuavano a parlare e lei starebbe le ore a parlare con lui per quanto riguarda il giardinaggio, la botanica e le composizioni florali. In quel momento l'occhietto di Mike va proprio verso di loro e dice a Rudy, non ti sembrano un po' affiatati quei due? E Rudy sinceramente durante l'arco della giornata se ne era accorta, perché già giù nella serra, Brianne e Oliver, dopo aver piantato i fiori, insomma, si sono messi lì a guardare il cellulare, a condividere delle foto che hanno fatto all'istituto, no? E li vedeva che stavano lì a chiacchierare, sempre un po' in disparte, sempre che facevano gruppo loro due, così come nel laboratorio di chimica si erano messi vicini, insomma, Rudy l'aveva notato, ma fa finta di niente, cerca di non vedere, poi ci parlerà con la sua amica. Alla fine delle composizioni florali, comunque, il professore ha dato un bel dieci a Brianna e Jake, perché era la composizione più bella e più curata, e vabbè, è stata un'enorme soddisfazione, e anche in questo caso, gli sguardi che si sono scambiati Jake e Brianna sono stati molto eloquenti, ovviamente loro erano soddisfatti del lavoro, però sì, si è creata, grazie a questa giornata, una bella chimica anche tra di loro, perché vi ricordo che lui è molto timido, cercava di stare sempre alla larga, di non dare fastidio agli altri, ha un carattere un po' particolare, ma la compagnia di Brianna gli è sempre piaciuta. E questa è la caffetteria, un altro lotto molto molto bello, e rispetto all'istituto, un po' più urbanistico, dal punto di vista architettonico. Allora, all'esterno ci sono questi tavolini, delle lucine che fanno atmosfera, come vedete, anche qui è ricco di basi, per coltivare le piante, e quindi penso proprio che dopo, fatto lo spuntino, potremo mettere a punto quello che abbiamo imparato prima, quindi fertilizzando, parlando alla pianta, anche facendo delle ricerche. C'è anche lo spaventapasseri, le arnie per le api, la serra al coperto, quindi al chiuso, con altre piante, più la posizione di composizioni floreali, quindi come caffetteria è stupenda, e poi l'altalena, anche i secchi per gavettone. Appena si entra, troviamo questa scala che porta al piano superiore, qui ci sono dei divanetti, come vedete, anche l'arredamento riprende tantissimo il tema verde, il tema piante, tutta la zona dei tavolini, e qui proprio c'è il bancone del bar, e tutti gli studenti, compresa Brianna, hanno ordinato cose da bere o da mangiare, poi da vedere, tipo Brianna ha ordinato un pan e un cioccolà, la barista, ragazzi, si chiama Beatrice Curious, ed è una simmina che ha fatto una di voi, ok, quindi aspettiamo che loro intanto, come dire, ordinano, si siedono, si organizzano, il piano di sopra, come potete vedere, il tetto è in vetro, e si vede anche il piano di sotto, è bellissimo, allora, il piano di sopra è così organizzato, c'è sempre la zona dei divanetti, Mike si è preso uno sconce, Oliver, ehi Brianna, sono Oliver, ti va di passare il tempo assieme stasera? E lei dirà, scusami tanto, ma io sono ancora, fate finta che prima lui non c'era nell'istituto, perché non doveva esserci, io sono ancora in gita con i compagni di scuola, e tornerò a casa sul tardi, sinceramente, devo ancora studiare per domani, quindi rimandiamo la prossima volta, e Oliver gli risponderà, ok, va bene, non ti preoccupare, quindi qui c'era la zona divanetti, librerie, sì, più di una, e anche postazione computer, quindi questa era la caffetteria, e mi piace tantissimo, mentre vi ho fatto il tour, i ragazzi hanno consumato la merenda, infatti si sono fatte le 5, e tutti poi alla fine si sono radunati qui, e stanno chiacchierando della giornata, il professore sta chiedendo le loro impressioni, se gli è piaciuto l'istituto, se un giorno vorrebbero ritornarci, insomma tutte queste cosette qui carine, hanno anche annotato le cose sui vari quaderni, non l'ho potuto far vedere in video, perché mi sono accorta che i compiti di Brianna sono a casa, perché altrimenti voi sapete che cliccando sui compiti, visto che questo è un gruppo, anzi voglio rimettere i plumbob, ad linee ffx on, perché ho fatto la foto senza plumbob, sia per quanto riguardava lì all'istituto, sia quando hanno ordinato le cose da mangiare, ecco lì qui, essendo un gruppo, poteva uscire a fare i compiti insieme, quindi era veramente carino e realistico, vederli all'opera ad annotare tutte le cose, però come vi ho detto, visto che qui c'è un giardino, potremmo venircene qui fuori, poi per fare le ultime cose, e non so se avete notato, o se vi ricordate, non ricordo di averlo detto anche nell'altra puntata, comunque le attività di oggi erano viaggiare, perché come avete visto abbiamo visitato due posti, e poi fare del giardinaggio, e Brianna adora entrambe le attività. Ok, allora io li metto a fare una ricerca, a continuare a parlare, insomma mi è piaciuto tantissimo, la scelta del perché vi ho mostrato tutto attraverso le foto, è molto semplice, come avete visto l'istituto, quell'otto, è molto grande, e io volevo che appunto tutte le varie attività, si svolgessero proprio durante la mattina, e che in caffetteria sarebbe arrivati, come avete visto, tra l'una e le due, si sono fatte comunque le due e mezza, anche perché poi lei ha finito di fare quella composizione floreale, che si chiama champagne rosa, è venuta anche in qualità normale, bellissima, e ho fatto anche la foto ricordo, e qui, ho fatto la foto ricordo che poi aggiungerà nella sua bacheca, lì nella stanza dei fiori, e per fare, voi sapete no, che i sim per passare da una stanza a un'altra, ci mettono davvero una vita, e si sarebbe fatta subito sera, quindi io per conto mio, ho giocato, ho fatto le foto, e vi ho raccontato quello che hanno fatto, e poi almeno qui in caffetteria, le abbiamo visti un po' insieme, un po' all'opera come gruppo, nel frattempo gli altri, cosa stanno facendo? ok, stanno continuando a mangiare, nel cambio di barista c'è Nicolas Latour, quello che in pratica mi piace a me ragazzi, mi persegui da questo barista, è bellissimo, ok, come vedete lei sta svolgendo le ricerche sui fiori, chi è che si è preso? Il caffè? Un bel caffè americano, hai capito Jake? e niente, quindi ecco, mi è piaciuto tantissimo, farvelo vedere in questo modo, in modo che, così è stato come dire, scorrevole, vi ho mostrato tutto quello che avevo in mente, e niente, direi proprio di sciogliere il gruppo, la gita è finita, e di tornarcene a casa. Tornata a casa, Brianna, come vedete, sta sistemando, l'ultima composizione di fiori, che aveva fatto, e a cui, ha messo questo bellissimo vaso primaverile, visto che ci sono questi tulipani multicolore, e alcuni anche blu, ecco, era l'unica composizione di fiori in cui ci vedo, questo vaso primaverile, anche questo è qualità normale, e se non lo sapete, oppure penso di sì, comunque vi ricordo che, per aggiungere profumi con fiore rari, o proprio profumare i vasi, come vedete, la composizione deve essere di qualità eccellente o superiore, e io ancora non ci sono arrivata, infatti le altre volte, non capivo, ecco, sto fermandomi a leggere, poi ho capito, e la mia qualità è normale, quindi finché non è eccellente, o superiore, io non posso fare niente, allora, prendiamo quindi, le ultime foto che ha fatto, che sono state queste, si chiama, primavera tetradica, mi piace scrivere, perché altrimenti, appunto, me lo dimentico, tetradica, perché appunto, ho usato quattro colori di tulipani diversi, aggiungi la cornice, e poi, quello che ho fatto all'istituto, è stato, sì, questo, che si chiama, champagne rosa, e, vi faccio anche vedere, che fiori ho utilizzato, oddio, guardate quanto è bello e romantico, ho utilizzato, i gilli rosa, tulipani rosa, e rose rosa, diciamo che Brianna, sta anche, adesso facendo, delle composizioni in vista, del matrimonio, di Alex e Alissa, e penso che questo, sia bellissimo, sia come decorazione, come bouquet, cioè i colori, sono veramente stupendi, e ok, poi con calma, così qui, mi cambio la cornice, e mi sistemo con Movo Object, intanto, le lascio qui, a continuare a parare con le piante, a fare delle ricerche, perché così, io nel frattempo, comunque mi aumento il giardinaggio, e così via, e poi, andrà sopra, eccoli qui, e, ah no, le aveva fatti i compiti della giornata, perfetto, Alissa, è in giro con Cooper, gli sta facendo fare, una bella passeggiata, lei, fino ad ora, non l'aveva mai portata a passeggio, Cooper, che cosa è successo? Cooper, esci dalla terra, vabbè, piccoli bug, sono sempre con noi, e quindi, ecco, si sta rilassando, con questa bellissima passeggiata, si sta godendo, diciamo così, l'inizio della primavera, anche se continua a fare, è un pochino freddino, però, con l'inverno, con la neve, non riusciva a portare fuori i cagnolini, e così almeno, da una mano anche lei, mentre il nostro Alex, è qui allo specchio, teso, che cerca di calmarsi, e perché ragazzi, perché questo? perché l'ultima volta, sempre nell'episodio, è primavera, vi avevo messo di fronte a un quesito, che in pratica, Alex e Alissa, ad Halloween, fanno il compleanno, quindi il prossimo autunno, e che succede? Che Alissa diventa adulta, e va bene, ma Alex va incontro alla vecchiaia, e quindi, vi avevo chiesto, se accettavate il fatto, che facessi prendere, la pozione della giovinezza, ad Alex, tantissimi di voi, mi hanno detto, certo, prendi, perché ovviamente, non può diventare anziano, proprio adesso, anche perché si devono sposare, io desideravo avere, un figlio, comunque da loro, non importa, se maschio o femmina, lascerò, lascerò le cose al destino, quindi quello che esce, esce, e, pochissimi di voi, invece, non perché non erano d'accordo, ma ovviamente dicevano che, era realistico, lasciare il fatto, che lui diventasse anziano, sì, sono d'accordo ragazzi, però, ecco, io nell'immaginario, penso ad Alex, come un cinquantenne, quando diventano anziani sim, sono, sui 70, 80, perché camminano comunque, con la gobba, sono veramente, ecco, anziani, e Alex è ancora nel pieno, della sua forma fisica, insomma, no, e quindi, comunque sono felice, che avete detto, di sì, alla pozione, e adesso gliela compro, gliela faccio bere, visto che è da solo in bagno, pozione della giovinezza, costa, 1500, non ti preoccupare Alex, non fare così, la soluzione esiste, eccola, è la pozione, anche perché, è vero che, l'anziano, fa i figli, è verissimo, finché, la donna, come dire, è giovane, anche in gioco, funziona così, però ecco, è proprio l'idea, di lui, 50enne, non 80enne, perché è veramente, esagerato, quindi vai Alex, bevila, perfetto, però, come vi dicevo, comunque voglio rendere le cose, un po' realistiche, quindi andiamo, a modifica il sim, eccoci qua, in pratica, visto che lui, è un 50enne, voglio, mettergli, i capelli, brizzolati, mi sembra, più che giusto, no? quindi comunque, vedete, iniziano, i primi capelli bianchi, e ok, poi, quello che volevo fare, era, aggiungere, i dettagli, della pelle, di aggiungere, più rughe, magari, queste qui, sulla fronte, il che è giusto, perché è normale, che con gli anni, qui, vengono le rughe, di espressione, ok, come ruga, c'è, soltanto questa, oppure, aumentare di più, i solchi qui, però no, preferisco, mettere, questi qui, sopra, anche perché, come vedete, con il fatto che è adulto, già ce li ha, ben delineati, no? I solchi, e va bene, in modo che così, l'ho fatto fare adesso, che è primavera, perché, quando arriverà l'autunno, per lui, sono passati altri giorni, perché mi piace, mantenere la differenza d'età, tra lui e lei, lei comunque, deve rimanere, più giovane, perché è più piccolina, perché mi immagino, lui cinquantenne, lei, trentadue, trentatré anni, così mi immagino, la coppia, ok, direi che, che va benissimo, mi piace, che si noti, brizzonato, un po' di rughette, e niente, abbiamo qui, un giovane, bellissimo, cinquantenne, oh mio dio, penso che, Zoe, sta un pochino male, ma, cioè, il suo male, è lasciarmi, cacca d'oro, e lingotti d'oro, per casa, barra d'oro, il tuo animale, stava defecando oro, ed è saltato fuori questo, zampitivamente strepitoso, ma infatti sì, cioè, mi dispiace Zoe, però, oh mio dio, avete visto, vale 6.000, 6.000, cioè, questo vuol dire, che la prossima volta, potrei arredare, un'altra zona della casa, oddio, sì ragazzi, sì, questo invece, 25, grazie Zoe, io la lascio malatina, ancora per un pochino, vabbè, tanto non vi preoccupate, che lei, ha sempre i suoi dolcetti, del benessere, nell'inventario, guardate, un altro lingotto, ok, qualche altro, sì, oddio, cioè, a volte mi è capitato, una cacchettina d'oro, ogni tanto, ma non così, così, così tanto, cioè, mi ha fatto tutto il percorso, ci sono bollette, sì, ok, 1700, allora io pagherò le bollette, e poi decido, se terminare il salotto, o, terminarmi il bagno, che da una parte, è la stanza, come dire, comunque importante, e, voglio mettere anche la, la lavatrice, l'asciugatrice, quindi, devo pensare, oppure, ditemi voi, se preferite vedere, il salotto, oppure, rifare il bagno, ecco, lascio decidere a voi, comunque, io lascio, Brianna qui, a coniore a fare le ricerche, dopodiché, appena lì, si torna a casa, gli faccio mangiare, in minestrone, per cena, bene, bene, qui si continua, mentre Alex, è qui, che studia gli avversari, per chi serve per lavoro, e, ancora non l'aveva fatto, quindi, approfitto, di questo momento, spero tantissimo, che l'episodio, vi sia piaciuto, ci rivediamo nei prossimi, tanti, mi piace e commentini, ciao, aaaaaa, e, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.